In questo momento, esattamente in questo momento, c'è qualcuno da qualche parte del mondo che magari ha un sacco di investimenti dietro le spalle e sta lavorando per buttarti fuori dal mercato. Chiunque tu sia. Per me, per te, per tutti noi. Sul lavoro tre domande da tenere in testa. Quale tecnologia sta per stravolgere il nostro lavoro? Come lo stravolgerà? Che cosa possiamo fare noi e che cosa dobbiamo fare noi per non farci travolgere? Rivoluzioniamoci. Grazie a tutti.